salve a tutti bene oggi vi porto un cellulare brondi amico home il titolo è a casa e fuori sì perché questo a casa lo possiamo considerare come un cordless e adesso andiamo a vedere come è fatto ma vediamo già dalla scatola che ha la sua basetta per mettere sotto carica dai tasti grandi volume molto alto come c'è scritto qui la vibrazione molto forte e gestione anche da remoto allora la gestione da remoto io ho fatto un video di come funziona la gestione del remoto da parte di brondi vi faccio riassunto veloce la gestione remoto se ho il mio caro nonnino papà o chi sia che non sa usare il suo cellulare perché ha messo in silenzioso voi tramite un messaggio potete mandare un messaggio e sbloccargli la suoneria e metterla al volume che volete voi o che vuole il papà il nonno i cari chi sia la mamma chi sia comunque ho fatto un video vi lascio in descrizione il link per se volete vederlo questo cellulare qui è un cellulare particolare ed è dedicato soprattutto alle persone anziane quindi vi facciamo un piccolo riassunto controllo la remoto che ho appena detto forte vibrazione quindi anche nelle persone che non sentono molto o che non hanno in mente una vibrazione così forte sentono che vibra viva voce doppia sim 500 numeri di rubrica che possiamo registrare messaggi tasto ss e anche qui ho fatto un video per il tasto ss che dove possiamo mettere cinque numeri di chiamata e posso chiamare quei cinque numeri lassi lui chiama la prima persona se la prima non risponde chiama la seconda se non chiama la seconda e poi la terza guarda la quinta e così via e poi il tasto per la torcia e adesso andiamo a vedere cosa troviamo in confezione lo apriamo ecco qui il nostro bell cellulare che sembra un corde se vedete è abbastanza lungo è perché è così ed è piegato per rivolgere qui metto l'orecchio e qui metto la bocca e quindi è fatto a forma di viso ok troviamo il cellulare poi troviamo i codici per il controllo da remoto che vi dicevo prima descrizione come funziona i codici che vi possono che vi possono essere utili in caso qua andate a vedere caso il video che ho fatto le istruzioni in italiano e anche la garanzia tutto in italiano bene la nostra batteria che una batteria comunque che dura abbastanza perché comunque una batteria da 600 mili ampere per un display così è già tanto il nostro alimentatore che serve per collegarlo o direttamente al cellulare o alla nostra basetta e adesso devo vedere la basetta che vi dicevo eccola qui la nostra basetta d'appoggio qui c'è il led che quando lo metto sotto carica si illumina di di verde quando è in carica e rosso quando è carico del tutto si illumina di verde quindi verde semaforo verde possiamo andare micro usb che l'attacco dell'alimentatore io l'appoggio così metto qua il mio telefono che può essere a me sembra un cordes visto così però è uno smartphone quindi con la sim possiamo dire che un cordes con la sim possiamo dire che uno smartphone è un cellulare da casa bei tasti grandi ben divisi ok esiste in colorazione bianca in colorazione nera e adesso qui vi lascio le foto e il video che ho fatto del bianco del nero così dato un occhio quelle vi piace di più questi due tasti qua sono i tasti delle persone che chiamo più spesso senza stare a cercarli in rubrica o i numeri diretti per chiamarli più spesso e il tasto s al posto di essere come di solito è sugli altri brondi dietro l'hanno messo davanti in modo che se ha bisogno schiaccio e chiama direttamente i soccorsi faccio il mio numero premo il tasto verde e chiamo rosso metto giù comunque adesso andiamo a vedere come inserire la sim allora per aprirlo si mette qua si sforza un po e si stacca vediamo che ha due sim normali non micro sim o nano sim ma due sim misura normale è una micro sd per mettere dentro della memoria aggiuntiva fino a 32 giga la batteria va messo col più come vedete qua in questo senso qua ok chiudo qui va tutto a pressione così bellissimo e vado ad accenderlo tolgo la pellicola che c'è qua davanti ed eccolo qua il nostro brondi adesso non ho messo sulla sim vedete che numeri bei grandi in evidenza qua mi se c'è una sim o due sim all'interno più sotto inserisci sim inserisci sim ma se fossero due sim mi darebbe il mio gestore ho il menu che corrisponde a questo tasto qua quindi premo questo vado su messaggi vedete icone belle grandi vado giù con la freccetta gestore file impostazioni vedi e chiama posso mettere delle immagini di chi voglio chiamare più veloce contatti registro chiamate organizer dentro l'organizer c'è bluetooth anche il bluetooth per collegare un accessorio bluetooth alla sveglia il calendario la calcolatrice l'orologio mondiale cronometro convertitore stk che non lo so che cos'è sinceramente torcia e basta se voglio accendere la torcia tasto sotto qui vedete zero tengo premuto e si accende ripremo e si spegne poi qua è per mettere il tasto della vibrazione del silenzioso e questo è il cancelletto bene molto semplice anche come numeri guardate belli grandi poi se voglio salvare un numero premo salva comunque ho fatto anche dei video per come salvare il numero come cambiare la suoneria e tanti altri video basta che guardate su espertone e li trovate tutti bene a me sembra un bel prodotto soprattutto per le persone anziane che non vogliono chissà che cosa basta solo un telefono che chiama e facciamo una sim con le chiamate limitate numero di telefono numero di telefono con una sim senza limiti così potete possono chiamare quanto vuole bene quindi a me sembra di avervi detto tutto se avete domande qualsiasi richiesta io sono qui cercherò di rispondere il più breve possibile mettete un bel like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale per restare aggiornati per altre novità o comunque se vi piace il mio canale non costa nulla basta premere iscriviti iscritto ed è fatto e attivate i tasti di notifiche bene grazie a tutti arrivederci grazie a tutti